Donna, mamma e ostetrica. Chi è Eleonora Laira? È una mamma di due bambini che ha 31 anni e ostetrica, profondamente innamorata del suo mestiere. Vivi quotidianamente la magia della nascita. Qual è stata l'esperienza più emozionante? L'esperienza più emozionante è la prima volta che ho assistito a un parto a domicilio. In quell'occasione ho scoperto che cosa fa davvero un ostetrica e qual è la vera fisiologia della nascita. La frase che ho detto è che non avevo mai fatto l'ostetrica fino ad ora. Era stato davvero emozionante. E poi di lì ho deciso che anche i miei figli sarebbero nati a casa. Il parto in casa è supportato in paesi come Regno Unito, Canada, Australia. E il 25% delle coppie lo sceglie in Olanda. In Italia 3-4 ASL e Centro Nord forniscono assistenza alle partorienti domiciliari. In Puglia? In Puglia il parto in casa non è così supportato, però comincia a prendere davvero piede tra le donne, soprattutto tra quelle che desiderano per il proprio figlio una nascita rispettata. Purtroppo non è sostenuto economicamente dalla regione Puglia e a differenza di altre regioni in cui invece esiste un rimborso per le coppie che scelgono di affrontare un parto a domicilio, in Puglia è totalmente a carico delle famiglie. Però proprio una decina di giorni fa è stata consegnata una petizione perché ci sia anche in Puglia una legge che consenta il rimborso del porto a domicilio. Sì, giovanissimo. Guardando al futuro, qual è il tuo sogno? Il mio sogno è quello di tornare ad essere una libera professionista, di dedicarmi al parto a domicilio. È un sogno che spero che a breve si realizzi perché ci stiamo lavorando, è aprire una casa maternità. Una casa gestita da sole ostetriche in cui le donne e le coppie possano rivolgersi per cercare l'intimità e il rispetto che sono essenziali nella nascita. Grazie mille. In bocca all'uvo. Prego.